Sarà con tutta probabilità proprio via Fabio Filzi ad ospitare la nuova sede della polizia locale di Arezzo, almeno a giudicare dalla risposta che il sindaco Alessandro Ghinelli ha dato a Francesco Romizzi che aveva posto una interrogazione in consiglio comunale. Ho a cuore il destino del corpo di polizia locale, dice il sindaco, per cui fin dall'inizio dell'Itero ho fatto un passaggio con i sindacati e degli agenti anche in merito alle considerazioni riportate nel documento richiamato nell'interrogazione. I sindacati hanno convenuto su quanto sostenuto dal sottoscritto e dall'ingegnere Antonella Fabianelli, dirigente del servizio progettazione per le pubbliche, ma ci siamo riservati di presentare all'intero corpo e non solo ai suoi rappresentanti sindacali uno studio di fattibilità approfondito su via Filzi. Ecco perché ci vogliamo basare su qualcosa di compiuto ed ecco perché abbiamo incaricato un professionista che lavori alla redazione di un progetto specifico grazie al quale confidiamo di essere ancora più persuasivi con gli agenti e di superare tutte le perplessità. Alcune di queste perplessità erano dovute al tipo di stabile che si trova in via Filzi di proprietà della Curia, un ex asilo abbandonato da tempo. L'opposizione attacca. Eravamo stati facili profeti, dicono Alessandro Caneschi del Partito Democratico e Francesco Romizzi di Arezzo in Comune, ma la maggioranza non resta in aula quando c'è da discutere l'atto di indirizzo sulla nuova sede dei vigili. È un film già visto, finiscono le pratiche, sparisce il numero legale e la sala consigliare si presenta vuota. Noi avevamo fatto un atto di responsabilità negli scorsi consigli comunali accettando l'invito del sindaco a rimandare la discussione, evidentemente non ripagati da analoga correttezza. L'iter è andato avanti, praticamente si è chiuso e ci chiediamo a questo punto quali siano gli interessi che impediscono l'esame del nostro atto di indirizzo, quali siano le reali motivazioni di un atteggiamento istruzionistico da parte di sindaco e maggioranza. Non è che ci sono divisioni all'interno della stessa, chiedono dall'opposizione, rispondendo all'interrogazione di Romizzi pare peraltro dalle parole del sindaco che l'iter sia invece in corso. Non è ben chiaro come stanno le cose, ma al di là del fatto che la scelta sia stata compiuta o meno, possiamo ammettere il risalto che ci è già costata 50.000 euro per il progetto di ristrutturazione dell'immobile di Via Filzi. È chiaro però che la strada del libero confronto è rimasta sbarrata per l'ennesima volta.